Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Facciamo Cinema, oggi recensione del Seme della Foglia di Carpenter, uno dei suoi capolavori, insieme a essi vivono Il Signore del Male, 1997 fuga da New York, ma comunque tutti i suoi lavori sono straconsigliati e da vedere. Il Seme della Foglia con protagonista Sam Neill, reduce da Jurassic Park, parla di questo investigatore privato, John Trent, che si ritrova a dover trovare, cercare questo scrittore che sembra essere scomparso, in una scena d'apertura meravigliosa in cui troviamo questo investigatore privato che si ritrova in manicomio e racconta poi tutto il film in flashback fino ad arrivare ad una scena finale meravigliosa. Comunque, che cosa c'è di bello in questo film è che quando lo scrittore, scusate, l'investigatore comincia l'indagine, si accorge fin da subito che c'è qualcosa che non va, perché lo scrittore, appunto, tramite degli indizi lasciati nelle copertine dei suoi libri, ci fa capire che si trova in una cittadina fantasma, ma fantasma nel senso che non esiste su nessuna mappa, quindi già lì è una realtà che esula dalla realtà nostra di tutti i giorni. E il film poi gioca un po' su questo, è un film che va ad omaggiare Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, che è un po' il riflesso di questo scrittore nel film di Carpenter. E quindi arrivano in questa cittadina, lui e un'altra ragazza, e si accorgono che la realtà comincia ad apparire diversa agli occhi di uno agli occhi di un altro. Non è più una realtà oggettiva, ma una realtà soggettiva, che porterà veramente il film a farti impazzire. Anche lo spettatore a un certo punto comincia a ritrovarsi in questo vortice che veramente ti fa star male. E quindi da lì, da un certo punto in poi, questo film cambia, diventa tutta una serie di cose folli, sensate comunque, che ti portano poi a far capire quanto può essere crudele il mondo. Qui c'è tutto Carpenter, c'è tutto il suo odio verso il capitalismo, tutto il suo pessimismo comunque verso il futuro della razza umana. C'è questa cosa che mette il protagonista comunque un personaggio in un ambiente interno isolato, e la minaccia esterna nel mondo che appunto si riversa fuori sulla Terra, e questo personaggio che invece è lì isolato. Anche se poi, qui a un certo punto, uscirà, ma verrà comunque preso, si ritroverà vittima di questo mondo, di questo capitalismo, ma anche di questo scrittore. Questo scrittore che con il suo ultimo romanzo praticamente riscrive la Bibbia, quindi c'è un po' anche un attacco a questo veramente attaccamento, ad una religione, perché questo scrittore con il suo ultimo romanzo, praticamente se arrivi alla fine di questo romanzo, è come se tu cominciassi ad impazzire, no? Infatti poi il mondo impazzisce, ma non puoi sottrarti, perché anche se tu non leggessi il libro, non lo reggerai mai, c'è sempre il film. Infatti nel finale, in cui il protagonista si ritrova nel cinema a vedere se stesso, in un film intitolato Il Seme della Follia, diretto da John Carpenter, nel film stesso, capisce che non c'è più niente da fare, che dovrà ad ogni costo impazzire anche lui, ritrovarsi in questo mondo creato, no? Appunto dalla mente di questo scrittore. È un film che, come detto, comincia seguendo una certa logica e poi diventa tutta una roba incredibile che solo Carpenter poteva concepire. È un insieme chiaramente di omaggi, di citazioni anche a Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, che penso Carpenter apprezzi molto, per quello che vedo, che credo, posso immaginare, ed è un film che va visto, che reputo uno dei migliori, se non il migliore, di Carpenter. Volevo fare un po' l'anticonformista, ma non posso, perché è veramente qualcosa di unico, ed è un film che va visto assolutamente da ogni costo, soprattutto se amate questo genere di film. horror, ma anche un po' horror psicologico, anche se non è quel tipo di film. Però comunque è un film che va visto ad ogni costo, amanti o no del genere. Io vi invito a lasciare mi piace se vi è piaciuto questo video, a cliccare sulla campanella per non perdervi nessun video, a lasciare un commento o anche iscrivervi al canale se volete. Da Facciamo Cinema è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!